Carissimi fratelli e sorelle che ci seguite da casa, a tutti voi il saluto fraterno e cordiale di pace e bene. Oggi, con i primi vespri della prima Domenica di Avvento, è iniziato un nuovo anno liturgico, per cui, come sottolinea la Sacro Santum Concilium, ricominciamo a celebrare nel tempo tutto il mistero di Cristo, dall'Incarnazione e dalla Natività fino all'Ascensione, al giorno di Pentecoste e all'attesa della Beata Speranza e del ritorno del Signore. Ricordando in tal modo i misteri della redenzione, essa apre ai fedeli le ricchezze delle azioni salvifiche e dei meriti del suo Signore. Le rende come presenti a tutti i tempi e permette ai fedeli di venirne a contatto e di esserne ripieni della grazia della salvezza. Quest'anno, anche nelle diocesi della Conferenza Episcopale Pugliese, con l'inizio dell'anno liturgico entra in uso la traduzione del messale romano nella sua terza edizione italiana, per cui abbiamo pensato di offrire nel corso di questo tempo forte quattro momenti formativi per suscitare maggiore slancio nell'impegno della pastorale liturgica. A nome della Fraternità ringrazio sin da ora Sua Eccellenza Reverendissima Monsignor Felice di Molfetta, Vescovo Emerito di Cerignola Ascoli Satriano, già Presidente Nazionale del Centro di Azione Liturgica e già Presidente della Commissione Episcopale per la Liturgia della CEI, per aver accolto il nostro invito a sviluppare quattro catechesi sulla terza edizione italiana del messale romano. Grazie di cuore, Eccellenza. Ora le cedo la linea perché dalla Chiesa parrocchiale San Giacchino di Terlizzi possa andare in onda il primo intervento dal titolo per un fruttuoso uso pastorale del messale romano. Pace e bene a tutti, buon ascolto e buon avvento. Con questa prima conversazione diamo inizio ad un percorso che ci vedrà impegnati a presentare la terza edizione del messale italiano. Il tema che svolgerò porta il seguente titolo per un fruttuoso uso pastorale del messale romano. E questo titolo è dettato proprio dalla la presentazione che apre il messale da parte dei Vescovi, i quali danno le motivazioni e le caratteristiche di questo testo nella terza edizione, di cui la prima risale al 1973 e il cosiddetto messale di Paolo VI del concilio, quello che ha visto la riforma conciliare nelle nostre comunità parrocchiali. Poi c'è stata una seconda edizione che rimonta al 1983 e che è stato in uso come testo fino ad oggi sui nostri altari e nelle considerazioni formative di coloro ai quali il messale è destinato. Ma ci troviamo adesso a una terza edizione, siamo nel 2020, esattamente a 50 anni di distanza. Questa terza edizione costituisce e rappresenta l'immagine fedele di un cammino percorso dal rinnovamento liturgico che ha visto impegnato gli accademici, gli operatori pastorali, i Vescovi, tutti coloro che si sono adoperati perché la riforma conciliare prendesse spazio nella mente, nei cuori e nella vita dei nostri fedeli. Questa terza edizione, di fatti, ci offre una traduzione fedele e attenta dei testi latini. Come ben sapete, i testi liturgici e quelli che nascono dalla sede apostolica sono tutti quanti in lingua latina e come tale devono essere riportati nella lingua nazionale per un servizio da rendere ai fedeli. E quindi questa terza edizione risponde anzitutto ad una particolare fedeltà ai testi latini, senza per questo però rinunciare alla qualità letteraria e alla piena comprensibilità. Ancora, questa terza edizione rivede e migliora alcuni testi scritti in italiano. Ancora, terzo elemento, essa edizione colma moderatamente alcune carenze introducendo nuovi testi. Al di là di alcuni aspetti tecnici, che se sarà del caso, li evidenzierò cammin facendo, ritengo sia più opportuno offrire alcune riflessioni in vista di un fruttuoso uso pastorale del messale. Ben consapevole che se esso è un libro d'altare, da essere maneggiato dai ministri sacri, esso, per i credenti, è una guida orante per un cammino di fede. Così i Vescovi nella loro presentazione, che esattamente apre il testo che io ho sotto gli occhi. Questa nuova edizione italiana del messale romano è offerta al popolo di Dio in una stagione di approfondimento della riforma liturgica del Concilio Vaticano II. Come ha ricordato Papa Francesco, oggi è necessario continuare in questo lavoro di approfondimento, in particolare riscoprendo i motivi delle decisioni compiute con la riforma liturgica, superando letture infondate e superficiali, ricezioni parziali e prassi che la sfigurano. Come potete ben comprendere? Non si tratta allora di ripensare la riforma, rivedendone le scelte, quando di conoscerne meglio le motivazioni che hanno indotto Paolo VI e il Concilio Vaticano II con le ragioni sottese, anche tramite la documentazione storica, come anche di interiorizzarne i principi ispiratori e di osservare la disciplina che la regola. La riforma esige la coscientizzazione dei grandi principi che l'hanno ispirata e la vogliono attuare. Dopo questo magistero, come ci ha parlato Papa Francesco, dopo questo lungo cammino possiamo affermare con sicurezza, e ancora Papa Francesco che ce lo dice, possiamo affermare con sicurezza e con autorità magisteriale che la riforma liturgica è irrevocabile. Si è parlato anche nel recente passato di riforma della riforma. E di certo dovremmo affermare con forza e con vigore che il Concilio Vaticano II è stato recepito dai credenti proprio dalla riforma liturgica conciliare, espressa dai libri liturgici e in maniera tutta particolare dal messale. Piace ricordare Paolo VI nel discorso per la presentazione dell'edizione italiana del messale romano, il 17 marzo del 1973, quando ebbe a dire «Un tesoro vi è stato affidato, le cui ricchezze nascoste dovevano essere per opera vostra messe a profitto delle comunità ecclesiali delle chiese che sono in Italia». E se il messale romano è per i pastori punto di riferimento ordinario e normativo della celebrazione, esso è il primo ed essenziale strumento per la degna celebrazione dei misteri e il fondamento più solido di una efficace catechesi liturgica. Il riferimento allora al messale nella sua valorizzazione è determinante per comprendere il senso profondo del mistero eucaristico, a partire dalla sua celebrazione, la quale è e rimane sempre una esperienza protesa alla conversione della vita tramite l'assimilazione del modo di pensare e di comportarsi del Signore. Ritengo che sia molto importante il rilievo di questo aspetto esperienziale che è orientato alla conversione della vita. È una conversione della vita che si realizza attraverso proprio l'assimilazione del modo di vivere, di comportarsi e di pensare da parte del Signore. Per questo l'azione liturgica e la liturgia in sé è e rimane la scuola permanente di formazione attorno al Signore risorto, nonché il luogo educativo e rivelativo in cui la fede prende forma e viene trasmessa. Pertanto, custode della fede creduta, celebrata e vissuta, il messale romano è testimone autorevole della profonda unità che lega la legge della preghiera, la legge del credere, la legge del vivere. Ecco perché vi ho parlato di una fede creduta, celebrata e vissuta. Ed è quello che noi diciamo con un linguaggio classico e tecnico, la lex orandi, la lex credendi, la lex vivendi. E quindi possiamo dire che il messale è proprio custode di questa visione sinergica e unitaria che lega la triplice legge della preghiera, la legge del credere, la legge del vivere. Ed è da questa consapevolezza che consegue esattamente la necessità di rinnovazione e di approfondimento di quell'impegno per una azione pastorale che sappia inculcare nei fedeli il riferimento sorgivo e culminante della Eucaristia. Quella Eucaristia domenicale che deve essere considerato davvero il riferimento sorgivo e culminante, quello che il Concilio dice fons et culmen, fonte e culmine di quello che costituisce il nostro legame con il Signore. Memori qual siamo che la migliore catechesi sulla Eucaristia dovrebbe essere, come dice Papa Benedetto in Sacramentum Caritatis, dovrebbe essere la stessa Eucaristia ben celebrata. Il libro che ho sotto gli occhi, di cui tanto si è parlato, perché tanto atteso, non è un fatto editoriale, né è un nuovo messale, bensì la traduzione del messale di Paolo VI, cioè il messale della riforma conciliare, 1963, nella sua prima edizione della lingua italiana, cui è seguita la seconda edizione del 1983 e la terza, quella di cui ci stiamo adoperando. La seconda e la terza altro intento hanno avuto, se non quello di custodire e trasmettere la ricchezza della tradizione vivente della Chiesa, racchiusa come in uno scrigno in quel libro chiamato Sacramentario. Quello che noi oggi chiamiamo messale, la tradizione vivente della liturgia ama dare il titolo di Sacramentario. E nella tradizione liturgica abbiamo esattamente, che sono le fonti anche del nostro messale, abbiamo il Sacramentario Veronense, il Sacramentario Gelasiano, il Sacramentario Gregoriano, perché custodiscono le formule che esprimono la fede creduta, celebrata e vissuta. E quindi questo Sacramentario deve permettere ai Cristi fideles, cioè ai fedeli, di entrare nel mistero pasquale, che è esattamente il culmine di tutta la storia della salvezza. Ma non solo entrare nel mistero, che è già importante, soprattutto attuarlo nella celebrazione per poi tradurlo nella vita. Come potete ben comprendere c'è sempre questo triplice movimento, cioè entrare nella comprensione, attuare quello che ci viene offerto e nello stesso tempo, nella celebrazione, apprendere lo stile di tradurre nella vita quello che ci viene consegnato. In tal senso, non si è trattato allora di un mero fatto editoriale, come è stato non poche volte presentato, bensì quello che stiamo facendo e quello che è avvenuto si tratta di un evento ecclesiale, perché non basta, non basta cambiare i libri liturgici per migliorare la qualità della liturgia. Fare ciò sarebbe un inganno. Occorre invece cambiare il cuore perché la vita sia veramente una lode gradita a Dio. Non basta allora cambiare i testi e migliorarli come onorevolmente si è fatto, ma essi, i testi, devono indurci a cambiare esattamente il nostro cuore. Cambiare il cuore perché la vita dei credenti sia veramente una lode gradita a Dio. A questa conversione è orientata la celebrazione cristiana che è incontro di vita con con il Dio dei viventi. La riconsegna allora del messale diventa una occasione di formazione per tutti i battezzati, i quali vengono invitati nella partecipazione attiva della santa liturgia a riscoprire la grazia e la forza del celebrare. Il suo linguaggio fatto di gesti e parole, nonché il suo essere nutrimento per una piena consapevole partecipazione alla vita liturgica. Perché la liturgia è vita che forma e trasforma e non un'idea soltanto da apprendere. La liturgia cui noi partecipiamo è e rimane vita che forma e trasforma. Sicché punto di partenza per noi ministri sacri e per i fedeli tutti è la consapevolezza di sapere che il messale racchiude esattamente un tesoro, il tesoro della tradizio perennis, cioè di un cammino che non si è mai interrotto nel tempo, il tesoro vivente, che non può essere ridotto ai gusti, alle ricette e a ricerche di pensieri, ma va accolto con docilità e promosso con amore in quanto nutrimento inesauribile e insostituibile per la crescita organica del popolo di Dio. Allora il nuovo messale non è tale nuovo messale, ma una nuova traduzione dal latino, una traduzione più fedele, correttiva, accrescitiva dei testi presenti in esso. E ciò nella fedeltà al principio della Sacrosandum Concilium, il primo documento del Vaticano II, in cui si parla di sana tradizione e legittimo progresso. La tradizione orante della Chiesa, infatti, ha avuto sempre bisogno di espressioni rinnovate, senza perdere nulla della sua millenaria ricchezza, anzi riscoprendo i tesori delle origini. Paolo V, nella Costituzione Apostolica del 14 luglio 1570, chiamata Quo Primum, in essa si tratta esattamente del messale romano del Concilio di Trento, in cui è scritto, dice il Papa Pio V, abbiamo ritenuto di dover affidare questo gravoso compito a uomini di eletta dottrina, i quali, dopo aver diligentemente confrontato tutti i codici con quelli antichissimi della nostra Biblioteca Vaticana, abbiamo restituito il messale stesso alla originaria normativa rituale dei Santi Padri, dice il testo latino della bolla e della Costituzione, ad pristinam santorum patrum normam ac ritum. E continua Papa Pio V, molti santi uomini hanno abbondantemente nutrito la loro pietà verso Dio, attingendo dal messale sia le preghiere che le letture. Sì, perché il messale di Pio V, quello che precede il messale della riforma di Paolo VI, aveva in sé non solo i testi, le orazioni, ma anche le letture. Ed è bello che quel messale plenario costituiva, per chi era saggio pastore, fonte di conoscenza in vista di una formazione cristiana. Quattro secoli dopo, Paolo VI, nella Costituzione Apostolica del 3 aprile 1969, nel Giovedì Santo, chiamata Missale Romanum, che è il messale di Vaticano II, nella sua traduzione del 73, risponde ad un preciso impegno del documento conciliare Sacro Sanctum Concilium. Il rito della messa sia riveduto, in modo che appaiano più chiaramente la natura specifica delle singole parti e la loro connessione e sia resa più facile la partecipazione pia e attiva dei fedeli. Per fare questo, Pio V si è avvalso di tutti i documenti che la Biblioteca Apostolica Vaticana conservava, ma erano fonti che non avevano tutto il percorso che segue nella produzione codiciale dei testi liturgici. fenomeno questo che sarà davvero posto nelle mani degli studiosi proprio nell'ampito di un periodo fecondo per la traduzione di questi testi antichi. E quindi, nella metà dell'Ottocento, ci sono state davvero delle pubblicazioni delle fonti antiche che hanno integrato quello che Pio V non aveva potuto avere sotto gli occhi, codici che sono stati riesumati e ripresi per una vera e propria riforma che tenesse conto delle antiche tradizioni, dei riti e delle norme dei santi padri. Quindi, la Sacro Sanctum Concilium ha voluto che ciò ecco, fosse da guida nell'ambito di una riforma a partire dal messale per la Eucaristia da celebrare. Ma, sempre il documento principe per la liturgia del Vadigano II, il numero 34 dice una cosa molto interessante. I riti rifulgano per nobile semplicità, siano chiari nella loro brevità e senza inutili ripetizioni, siano adatti alla capacità di comprensione dei fedeli, non abbiano bisogno in genere di molte spiegazioni. Coloro che ricordano il messale plenario di Pio V conosce bene una ritualità possiamo dire tutta particolare e dove in effetti i fedeli erano quasi esclusi da tutto ciò che i sacerdoti con le parole latine e con i gesti compiva sull'altare. Ed ecco la esigenza che i riti nel Concilio Vaticano II devono rifulgere per la nobile semplicità. Devono essere chiari, accessibili anche nella loro brevità, senza inutili ripetizioni e devono essere adatti alla capacità di comprensione dei fedeli e che non abbiano bisogno di molte spiegazioni. Come potete ben comprendere la prospettiva del Concilio Vaticano II è stata determinata proprio perché i fedeli entrassero nel vivo del mistero pasquale attraverso i riti e le preghiere e attingessero da questa presenzialità del Signore forza, vita nuova e formazione autenticamente cristiana. Il recupero di un altro libro il lezionario con i testi della parola di Dio possiamo dire che è un frutto prezioso del Concilio perché nel messale di Pio V c'erano quelle letture che venivano riproposte nel corso dell'anno ed erano sempre le stesse. il Vaticano II invece ci ha fatto dono anche di un altro libro che con il messale fanno un tutt'uno il cosiddetto lezionario. Non di meno non di meno le letture della messa ormai sono sono state poste al centro dell'attenzione dei fedeli nella omelia perché fermarsi sempre e solo sulle letture credo che sia giunto il momento di riscoprire anche i testi delle preghiere che il messale ci mette davanti riscoprendo e valorizzando la grande potenza teologica e formativa condensata in una orazione colletta in una superoblata e in un post comunio. Noi stiamo per celebrare la prima domenica di avvento e se prendiamo e ho aperto il messale la orazione presa da un sacramentario antico il gelasiano dice proprio così o Dio nostro padre suscita in noi la volontà di andare incontro con le buone opere al tuo Cristo che viene perché egli ci chiami accanto a sé nella gloria a possedere il regno dei cieli questa orazione nella sua sinteticità ci mette davanti la prospettiva del Signore che viene e si rende presente e noi che lo incontriamo andando incontro a Lui ma se prendiamo poi ecco dopo la comunione ci dice ancora il messale la partecipazione a questo sacramento che a noi pellegrini sulla terra rivela il senso cristiano della vita ci sostenga Signore nel nostro cammino e ci guidi ai beni eterni come ben avete potuto comprendere in essi testi noi cogliamo il senso genuino dell'avvento il senso teologico perché il veniente il Signore che è giudice della storia a noi pellegrini viene a rivelarci il senso cristiano della vita e questa presenza si attua nell'azione liturgica che deve suscitare in noi la volontà di andare incontro a Lui con le buone opere ed è bello questo ricordare che il tempo dell'avvento dovrebbe diventare come dice San Cipriano una sorta di allenamento nelle buone opere da svolgere per accogliere i fratelli bisognosi che vigono attenzione attraverso le nostre attività e le nostre opere però vorrei presentarvi un testo sempre del messale che costituisce una vera e propria scuola di formazione quello che noi e voi sentirete esattamente sabato sera domani sera o domenica il prefaccio dell'avvento in cui ci rivela esattamente il senso di questo tempo che lungi da prepararci soltanto al Natale vuole prepararci invece ad un altro Natale cui andiamo incontro il Dies Natalis che costituisce l'incontro glorioso con il Signore dice così il testo che voi ascolterete tu si riferisce al Signore tu ci hai nascosto il giorno e l'ora in cui il Cristo tuo figlio Signore e giudice della storia apparirà sulle nubi del cielo rivestito di potenza e splendore in quel giorno tremendo e glorioso passerà il mondo presente e sorgeranno cieli nuovi e terra nuova ora Egli viene incontro a noi in ogni uomo e in ogni tempo perché lo accogliamo nella fede e testimoniamo nell'amore la beata speranza del Suo Regno nell'attesa del Suo ultimo avvento insieme agli angeli e ai santi cantiamo unanimi l'inno della gloria questo prefazio ci ha fatto cogliere la tripice dimensione di colui che è venuto viene e verrà e che impegna noi ad andare incontro a Lui con le buone opere chiudo riportandovi un testo un commento di Agostino al Salmo 95 dice così il testo di Agostino allora si rallegreranno gli alberi della foresta davanti al Signore che viene perché viene a giudicare la terra questa sua parola è risuonata prima nell'Evangelo d'ora innanzi attraverso i suoi annunziatori non poniamoci contro la prima venuta per non dover poi temere la seconda che cosa deve fare dunque il cristiano servirsi del mondo non farsi schiavo del mondo che significa ciò vuol dire avere ma come se non avesse perché passa la scena di questo mondo io vorrei vedervi senza preoccupazione chi è senza preoccupazione aspetta tranquillo l'arrivo del suo Signore infatti che sorta di amore per Cristo sarebbe il temere che egli venga non ci vergogniamo lo amiamo e temiamo che egli venga ma lo amiamo davvero o amiamo di più i nostri peccati è una grande riflessione che Agostino ci consegna in questo inizio dell'avvento in cui ci prepariamo a celebrare anche il Natale ma con cuore rinnovato nel distacco dalle cose di questo mondo per annenare alle realtà del cielo inizio Grazie a tutti